Ma tu lo sai che cos'è un gioco indie? È un titolo più piccolo, minuto, dove spesso e volentieri c'è solamente una o poche persone a svilupparlo. Con un budget ridotto però spesso e volentieri questi giochi riescono a consegnare messaggi, temi, ma soprattutto gameplay molto più belli di tanti AAA blasonati. Questa è una nuova puntata di Indimenticabile, la serie dove ti parlo di titoli indie dimenticabili. Oggi ti voglio parlare di Viewfinder, un titolo che metto quasi, se non forse ai pari, di Portal. È un'affermazione importante soprattutto se conosci quanto Portal sia stato importante nel panorama dei puzzle game che andavano a mischiare trama e rompicapo. Ovvero il proprio capostipide della storia dei videogiochi che se non è giocato, imperdonabile, imperdonabile, dopo il video, dopo il video, recuperato il primo e il secondo. Ma anche Viewfinder ha veramente una meccanica di gioco unica, originale e ben piazzata. E già perché non troppo tempo fa uscì Super Liminal, un altro gioco molto bello che mi è piaciuto tantissimo, che giocava con le prospettive. Perciò se ti allontanavi l'oggetto diventava più piccolo e lo potevi raccogliere piccolo. Se ti avvicinavi diventava grande e quindi potevi giocare con oggetti più grossi. Insomma, un bel divertimento. Viewfinder fa una cosa simile ma gioca con le foto, con delle Polaroid per essere preciso, che possono essere scattate o raccolte in giro per i livelli. E se già dopo aver provato la demo ho detto beh, deve essere veramente un titolo interessante, è quando ho giocato al gioco completo che mi sono reso conto che il gioco era molto di più. Infatti la demo, in maniera molto intelligente, ha tagliato alcune cose mescolandole, non dando effettivamente la percezione di cosa stesse avvenendo ai livelli di trama. E già perché a un certo punto Viewfinder dà letteralmente uno schiaffone, ma proprio forte, a tutti i giocatori perché c'è un plot twist molto molto figo. Io inizialmente mi stavo già facendo tutte le bippe mentali, tipo ah sarà così, sarà così, ma forse noi stiamo dentro una simulatura. Invece, in realtà poi pensandoci già all'inizio gioco ci sono dei piccoli hint, degli indizi su quello che poi è effettivamente lo scopo del gioco. Però all'inizio nessuno ci può fare il collegamento, insomma riescono veramente a prendere per i fondelli il giocatore. Insomma, Viewfinder è riuscito a stupirmi su questo aspetto, però ovviamente non voglio farti spoiler perché sarebbe veramente cattivo toglierti la sorpresa, il gusto e il divertimento di quello che succede tra l'altro già nei primi 20 minuti del gioco. Ma Viewfinder, oltre a questa enorme parte che, se poi hai giocato il gioco e hai voglia di scrivere nei commenti il tuo parere al riguardo, scrivi pure magari con la dicitura spoiler, va oltre il semplice gioco narrativo perché di fatto ci sono i puzzle, puzzle molto simpatici, belli e divertenti che fanno proprio leva su le foto, le Polaroid. Ecco quindi che per raggiungere il teletrasporto di fine livello, certe volte serviranno delle batterie. E allora queste batterie come le trovi? Le trovi magari da qualche parte, ma quella qualche parte è contenuta dentro una foto. Ed ecco quindi che si prende la foto, la si piazza dove si vuole e boom, la foto è piazzata, lo scenario è attraversabile. Questo però può causare certe volte la rottura del gioco, cioè io potrei piazzare la foto dove c'è il teletrasporto. Ed ecco quindi che c'è una meccanica di rewind molto intelligente che permette di evitare di fare certi errori. Perché certe volte non sarà tutto facile perché se no, dopo i primi tre livelli dici vabbè, è ora. Ecco quindi che giocare con le Polaroid vuol dire giocare anche con le prospettive, ruotando, capogolgendo le foto. In questo modo si possono creare ponti utilizzando pezzi di foto, si possono creare lunghi attraversamenti attraverso lo scenario utilizzando sempre le stesse foto, oppure ruotando magari una foto si possono scoprire passaggi nascosti che in una certa prospettiva non c'erano. Capisci bene che poi le possibilità di gioco iniziano a ramificarsi sempre di più, specialmente quando poi in gioco ti darà la Viewfinder. Questa Polaroid che permette di scattare le foto e di utilizzarle poi come vera e propria munizione per crearci il percorso preferito. C'è un enigma che mi è piaciuto tantissimo e che voglio raccontarti perché spiega esattamente come funziona Viewfinder. Per sbloccare il teletrasporto di fine livello servono tre batterie, una è già lì presente. Perciò ho pensato, ma se io scattassi la foto alla batteria, la batteria poi mi riappare? Ed ecco quindi che in mezzo secondo mi sono fatto le due batterie mancanti e sono andato avanti. Ma un altro esempio è quando invece si può avere direttamente la fine del livello. Perché se io scatto la foto al teletrasporto e poi me la piazzo ruotandola dove voglio io, senza dover magari oltrepassare un cancello, ho già finito il livello. Questi sono veramente soltanto alcuni aneddoti di un gioco che fa sapiente utilizzo secondo me di questa meccanica ed è un titolo bello, genuinamente bello. Un'avventura tra l'altro non troppo longeva, in circa cinque ore la si può portare a termine, più se volete mettervi a fare gli ex eccetera eccetera, un'altra oretta in più la si può mettere. Ma nulla toglie che è stato uno dei giochi secondo me più belli nel panorama indie che abbia giocato quest'anno. Super, iper, mega consigliato se sei un fan di Portal, The Talos Principle o tutti questi tipi di giochi dove c'è l'enigma unito alla trama in prima persona. Un must have e per me questo è un vero titolo indimenticabile.